Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. Una vita sregolata e piena di eccessi, che lui stesso ha fatto venire alla luce con un'autobiografia shock. Mattias Jesus Almeida, nato a Buenos Aires nel 1973, è approdato in Italia dopo aver militato nel River Plate e nel Siviglia. È la Lazio a puntare su di lui nel 1997. Si congeda dai bianco celesti dopo tre anni, uno scudetto e due coppe Italia. Parma, Inter e Brescia sono le tappe successive di un'avventura controversa nel nostro paese. Nella sua autobiografia, Almeida ha rivelato di avere seri problemi di alcol, tanto da finire in una sorta di coma etilico. Poi ci sono le pagine nere di Parma, l'alite con Tanzi, le vitamine che a suo dire in realtà erano Flebo, il rifiuto a prestarsi ad un tentativo di combin della sfida con la Roma del 2001. E per finire, la depressione ai tempi dell'Inter.